Come tutte le città del mondo, anche a Roma quest'oggi si manifesta nella giornata contro la violenza sulle donne. Una giornata importante con tantissimi eventi organizzati anche dal Comune di Roma. Noi ne parliamo insieme a Gemma Guerrini, che è presidente della Commissione delle Elette in Campidoglio e che ha organizzato tutte queste manifestazioni in occasione di questa giornata. Ben trovata presidente Guerrini, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. In che modo oggi il nostro Comune, la nostra città, onora la giornata contro la violenza sulle donne? Allora, il Comune ha organizzato in verità un unico evento che però si sviluppa e si snoda durante tutta la giornata in due luoghi diversi. Ci siamo visti a Valle delle Camene, questa mattina in Santa Maria in Tempolo, che è la sala dove si celebrano i matrimoni da parte del Comune, quindi i matrimoni civili. Poi, lungo tutto questo pomeriggio, invece, l'incontro si svilupperà nella Sala Rossa del Campidoglio, quindi amme due le sale che il Comune mette a disposizione per la cerimonia dei matrimoni civili. In Roma, però, ogni municipio ha poi ideato un evento, purtroppo alcuni, ricordo anche, di cittadini residenti nel territorio, cittadine residenti nel territorio che sono state vittime di violenze e di femminicidi. Quindi, diciamo, la giornata è veramente tutta impegnata alla celebrazione di questa giornata, nel ricordo, come ha detto questa mattina la sindaca Vigina Raggi, ma soprattutto nell'organizzare delle strategie per affrontare questo problema nella maniera più consapevole e più approfondita per contrastarlo. Questa è l'intenzione. Esatto, ed è importantissimo agire prima, no? A volte, quando leggiamo questi fatti terribili di cronaca sul giornale, ci chiediamo come sia possibile ancora oggi, nel 2016. Non siamo un mondo sviluppato da questo punto di vista, e purtroppo dobbiamo attuare dei segnali, dei campanelli d'allarme, no? Da poter alzare quando, ovviamente, il rischio è imminente, laddove, insomma, ci se ne accorga. Quindi è importante intervenire anche in questo senso. Le donne del Comune si sono unite in queste celebrazioni, le Assessore Muraro, Marzano, Meleo e Baldassarre, la Presidente della Comunità Ebraica Dureghello e la Presidente, anche di Acea, Katia Tomasetti. Insomma, avete fatto un team rosa per questa giornata in rosso? Ma, direi che veramente mi piace correggerla. Prego. Perché in questa giornata è stato presente anche il Segretario Generale della Grande Moschea di Roma, il Dottor Abdullare Duan. Ci raggiungerà il Rettore della Racelli, quindi Fra Cristoforo, e questo perché abbiamo inteso unire tutte le forze presenti a Roma di contrasto alla violenza, forze istituzionali, forze rappresentative e quindi anche forze amministrative, naturalmente, di Roma Capitale. E c'è stato anche il Direttore del Dipartimento Politiche e Sociali, scusi, pari opportunità. E quindi veramente si è cominciato un po' a rompere quel muro di isolamento che vede le donne a volte combattere da sole. Questa non è una battaglia individuale, non è possibile che le donne pensino di poter contrastare la violenza se rimangono da sole. Il sottotitolo del volantino che abbiamo preparato recita insieme, si combatte insieme. Chi fa violenza su una donna non fa violenza su un individuo, fa violenza su un cittadino, su una cittadina che fa parte di una comunità. È una violenza che si sviluppa e si allarga a tutta la società e che se anche silenziosa comunque avviene e comunque incide profondamente sulla carne di questa città, che diventa peggiore. Quindi per migliorare dobbiamo essere uniti a contrastare la violenza comunque essa sia. Poi le donne ne sono vittime in special modo e soprattutto, mi spiace dire soprattutto, ma è così, i loro figli, i loro bambini. Quindi è veramente una battaglia che dobbiamo combattere tutto insieme. E mi piace oltretutto sottolineare che questa giornata si chiuderà con un evento teatrale organizzato dai ragazzi giovanissimi minorenni di una scuola teatrale che hanno deciso autonomamente di loro iniziativa di mettere in scena la Lucrezia Violata di Shakespeare. Questa è una scelta importantissima che fa capire come veramente i ragazzi sono sensibili e abbiano delle antenne più sviluppate delle nostre finché non gliele tagliamo, perché Lucrezia Violata è proprio l'eroina romana della storia romana che ha preteso di venire vendicata non in quanto donna violata, ma in quanto cittadina e ha fatto ricadere la violenza che è stata perpetrata contro se stessa sulla comunità e nonostante fosse stata perdonata, scusata, assolutamente assolta dal padre, dal marito, a lei non è bastato. Ha detto no, io sono una cittadina e questa colpa deve ricadere sui colpevoli, questo fatto, la vendetta deve ricadere sui colpevoli perché io sono una cittadina romana e quindi ha offeso una comunità e fu da allora che Roma cacciò i re. Quindi è una valenza storica enorme che questi ragazzi hanno assolutamente percepito e hanno voluto rappresentarla in questa giornata. Noi se sarà possibile la rappresenteremo sulla piazza del Campidoglio in modo che anche i passanti possano fruirne, se come teniamo invece non sarà possibile, ci sposteremo alla sala della Proto-Morteca, la sala più grande, più elegante, più bella, una delle sale più belle del Campidoglio, prezioso del Campidoglio, del Palazzo Senatorio che chiaramente è sempre aperto a tutti i cittadini e questa volta in maniera egregia a dei ragazzi che appunto danno questo segno così importante. E forse questa è la cosa più bella di tutte, come giustamente ha sottolineato lei, perché sono dei giovani che con sensibilità mettono in scena uno spettacolo teatrale che parla esattamente di questo, dando anche una speranza per il futuro, la speranza che le giovani generazioni considerino tutto questo qualcosa di assolutamente lontano da loro e criminale, quindi avulso dalla loro vita e che tutto questo possa essere ricordato attraverso uno spettacolo culturale. Quindi complimenti, l'invito è a tutti coloro che si trovassero esatto in zona per andare nella sala della protomoteca perché purtroppo il tempo probabilmente non consentirà la manifestazione in piazza. Prego. Un'ultima cosa posso concludere così, dicendo che questi ragazzi, che tra l'altro sono ragazzi di una periferia di Roma e a noi piace dire che Roma non ha periferie perché siamo in Italia, siamo a Roma, ogni municipio è un centro storico e quindi va rivalutata la storia del territorio. Questi ragazzi vengono appunto dal municipio Sesto, mi pare, insomma non vorrei sbagliare comunque da uno dei municipi più lontani dal Campidoglio, ma comunque centrali per l'amministrazione capitolina e centrali per la storia di Roma e raccolgono il testimone che questa mattina è realmente stato loro consegnato dal vicepresidente dell'Ampi, questa partigiana che ci ha parlato di Tina Anselmi, di Lide Iotti e che veramente ci ha dato impulso perché noi siamo degni di questa loro testimonianza. una giornata ricchissima. Una giornata ricchissima anche di storia, di storia recente di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Grazie a Gemma Guerrini e quindi buona continuazione con questi eventi nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gemma Guerrini, presidente della commissione delle elette in Campidoglio. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Buonasera.